dunque qui a tallin ci sono ben dieci gradi fa bel frescolino e allora vi racconto una storia oro preto è una città in brasile dove sembra che sia l'unico posto al mondo dove c'è una miniera di topazzo imperiale io ho conosciuto la persona che ha scoperto questa miniera che ora fa il custode del luogo lui ha scavato per 18 anni quattro mesi tre giorni senza mai trovare nulla e ha trovato il primo la prima pietra dopo 18 mesi 18 anni quattro mesi due giorni quando ho raccontato questa storia mio suocero ex suocero lui mi ha detto che quando era giovane con un altro gruppo di amici sono andati lavoravano alla ferrovia sono andati sapevano di un luogo dove c'era delle pietre preziose beriglio e sono stati mesi e mesi a scavare e poi hanno esaurito i soldi e la pazienza se ne sono andati qualche mese dopo degli altri sono tornati sul luogo dove avevano lasciato la buca sono andati avanti e poco sotto hanno trovato una pietra immensa un seguimento immenso morale segui quello che senti dentro seguire il proprio sentire che cosa vuol dire non vuol dire fare quello che ti viene in mente vuol dire renderti conto che per esempio come di questi tempi quando il mondo di fuori parla più forte ti mette in una situazione di scelta in una situazione di allarme in una situazione di minoranza se tu cadi nella tentazione di seguire le voci le voci tanto più in questo tempo di infodemia le voci che vengono da fuori ti perdi ma anche se reagisci anche se rispondi secondo quelle che sono le tue convinzioni contro quegli altri che hanno idee diverse sei nella stessa barca allora riconoscere cosa significa e non lasciarsi cadere in tentazione riconoscere che cosa significa tenere fermo l'intento esattamente come fa la natura hai mai visto l'aria che sembra ovviamente la l'elemento più libero in assoluto che ci sia l'aria rispetta pienamente sul codice interno va su quando fa caldo e viene giù quando fa freddo l'acqua scorre rispetta pienamente sul codice interno il fuoco la terra quindi se noi vogliamo andare verso noi stessi realizzare la nostra natura dobbiamo rispettare il nostro codice interno c'è un moto dentro di noi che si muove con un ritmo e che dialoga col mondo esterno quindi il mondo esterno quello che succede nel mondo esterno conta molto relativamente è solo l'opportunità per allinearci col nostro codice interno a quel movimento quella spinta che si noi diciamo quello che senti senso sentito ma è molto di più di un sentire è un essere connessi pensa al seme che diventa quercia quel sentire quella spinta interna che dal seme ti fa diventare quercia quella spinta interna che ti fa scorrere lungo verso il mare quella spinta interna che ti fa ardere verso i cieli quella spinta interna che ti fa muovere liberamente quindi non cadiamo nella tentazione della reazione non cadiamo nella tentazione di seguire la massa ma nemmeno di reagire riconosciamo che tutto è un'opportunità e che il nostro codice interno è la guida quindi che ci sia una situazione di emergenza una situazione di grazia è lo stesso perché quello che conta è che tu ti allinei e rispetti il tuo codice interno